Siamo qui a presentarvi un Dipartimento di cui io da tempo sentivo la mancanza, tra i tanti Dipartimenti di Forza Italia, un Dipartimento che riguarda la cultura. Questa mattina Edoardo Silo Slabini, che è responsabile nazionale del Dipartimento, ha rilasciato una mezza intervista sul giornale, in cui ha ricordato un luogo comune, odioso quasi per noi liberali, cioè il luogo comune in base al quale un artista, un artista vero, deve per forza essere di sinistra. E questo è qualche cosa che risiede anche nella colpa di chi invece sta a destra, nella colpa di chi è liberale.